Ben ritrovati anche questa settimana le news dalla Camera di Commercio. Ci troviamo al centro congressi Villeponti dove è in corso un incontro d'affari tra operatori della nostra provincia e quelli tedeschi. Un'iniziativa promossa naturalmente dalla Camera di Commercio in collaborazione con Provex, consorzio per l'internazionalizzazione. Incontri business to business in particolare rivolti al settore della meccanica strumentale. Nuove opportunità dunque per le nostre aziende così come sono rivolte alle imprese della provincia di Varese le prossime iniziative che vi segnalo da parte dell'ente di piazza Montegrappa. In particolare vi ricordo il 12 ottobre, dunque questa settimana, il ritorno dello sportello per l'occhialeria. Un'occasione di incontri per formazione e approfondimento riservata naturalmente questa occasione alle aziende di un settore importante sul nostro territorio. Quello appunto della produzione degli occhiali. Un altro appuntamento invece cambiando argomento è quello del 27 di ottobre nell'ambito del ciclo percorsi ambientali. Come svolgere al meglio tutte quelle attività importanti per le aziende in campo ambientale. Il 27 di ottobre nuovo incontro del ciclo come vi ho già ricordato percorsi ambientali. Naturalmente come sempre vi invito a consultare il sito della Camera di Commercio all'indirizzo www.va.camcom.it per ulteriori informazioni. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.